cioè com'è possibile che abbiano fatto anche una chiave che apre i cassonetti che sono lì no ovviamente è una cosa che più o meno in tutta Italia una chiave che apre i cassonetti capito cioè e quando si chiudono controlli pure che si sia chiuso perché sennò ti fregano la spazzatura ditemi che cazzo di senso ha ditemelo ditemi il senso però ditemi una cosa seria non mi dite una cosa tipo ah l'ambiente le cose una cosa seria voglio sapere la chiave che chiude i cassonetti o che li apre ditemi la cassaforte la spazzatura in cassaforte